buongiorno ragazzi buongiorno a tutto il gruppo eccoci qui al porto di terracina siamo venuti qui diciamo qui dietro quei pini inizia il centro di terracina la sopra troviamo il centro storico dice il centro ittico c'è un ristorante dove si mangia molto bene dei pescatori tutto pesce fresco appena fatto e questo è il parcheggio noi siamo qui al centro in mezzo ai camper camper anche da questa un motorhome marca 70 80 mila euro e niente lì sopra c'è il tempio di giove pensiamo qui con la rullottina parcheggio gratuito maxi parcheggio questo molto grande e proprio alle porte proprio di terracina a piedi da questa parte c'è il porto e poi da oltre questo fiume c'è la spiaggia di dietro c'è un parco con l'accesso alla spiaggia e tutto il lungomare di terracina dove ci sono ristoranti c'è di tutto poi ci andiamo a fare una passeggiatina e niente siamo libera qua in questo parcheggio oggi con questa veduta nel tempio di giove ve lo inquadro stupendo e qui dietro c'è un'osteria molto famosa il vicoletto a due minuti da qua noi quando qualche volta ci andiamo che si mangia molto molto bene e niente ragazzi vi saluto e vi voglio far vedere questa breve panoramica di dove siamo oggi e niente un saluto a tutto il gruppo questa comunque questa area parcheggio è segnalata anche su park for night che io utilizzo e la consiglio a tutti anche per una sosta ecco noi adesso non è che dormiamo qui questa notte abbiamo fatto un'uscita veloce pranziamo qui siamo un po al pomeriggio andiamo a fare una passeggiatina e poi andiamo a casa un'uscita anche queste uscite veloci sono belle perché per staccare un pochino dalla routine ok niente ragazzi iscrivetevi al canale al gruppo e un saluto a tutti ciao